secondo me inducia all'incidente perché soprattutto sul legno si impiglia il guanto sul 16 guanti speciali a parte che c'hai molto meno manualità e poi si impiglia il legno sulla una punta di un ferro di una punta di un trapano a colonna come è successo a un mio amico gli ha spezzato il dito perché ha cominciato a girare il guanto intorno alla punta cosa che il trapano colonna la punta la puoi toccare non gira ma non ti fa niente lui invece gli ha preso il guanto il guanto naturalmente ha cominciato a rotolare si è spezzato il dito gli ha tirato il dito dentro quindi il guanto io non l'adopero io l'adopero le cuffie quello sì perché le macchine sono morose ora prima non l'ho messa ma io l'adopero solo le cuffie molto interessante questa cosa del guanto ma io il guanto assolutamente senza guanto hai visto la scheggia ma non importa la scheggia la scheggia si toglie con la pinzetta il dito si riattacca